L'ordine dello starter Parte piano Giasone In partenza Dum Dum Blu con all'esterno Emanuele lungo la corda parte bene solo Borgi Poi guardistallo anche veloce con Dum Dum Blu al comando Emanuele all'esterno Emanuele che va a spingere nei confronti di Dum Dum Blu Dum Dum Blu lascia via libera ad Emanuele che va al comando Poi terzo si mette guardistallo all'esterno Full Dorio Emanuele al comando nei confronti di Dum Dum Poi Full Dorio all'esterno ancora Esolo Borgi 27.2 per i primi 400 di gara Ed Emanuele ha due lunghezze abbondanti nei confronti di Dum Dum Blu Poi Full Dorio che è rimasto scoperto Esolo Borgi che muove a largo 42.3 per i primi 600 di gara con Emanuele Battistrada Non dà possibilità a Full Dorio per andare in avanti Adesso deve sbacciarsi Marcello Mangiapane con Emanuele che passa i primi 800 in 58.2 Full Dorio in difficoltà con Esolo Borgi che lo deve aggirare Nel frattempo Emanuele al comando Dum Dum Blu sempre lì sotto Il chilometro in 14.2 Emanuele con Giampaolo Minucci che scuffia il suo Dum Dum Blu Si sono agganciati Full Dorio e Esolo Borgi Viene via velocissimo Giasone Dei dalle retrovie che va a caccia di guardistallo Emanuele nel frattempo 15.1 sulla retta opposta del tribune Con Dum Dum Blu lì sotto Poi all'esterno Giasone Emanuele e Marcello Matti in fuga da Dum Dum Blu E Giasone Dei si è liberato anche dall'impasse E veloce il retto d'arrivo con Emanuele che è stanco Si infila all'interno Dum Dum Blu Emanuele contro Dum Dum Blu All'interno anche guardistallo Con Dum Dum Blu che va di dentro Emanuele Emanuele e Dum Dum Blu sul palo sono molto vicini i due Con Emanuele che forse forse si è salvato da Dum Dum Blu Ma bisogna rivedere perché l'arrivo è stretto Vedete che proprio sul palo E' ancora Emanuele Che dovrebbe, sì, dovrebbe essersi salvato Tenete i biglietti da Dum Dum Blu Poi all'interno guardistallo davanti a Giasone Dei Tenete i biglietti 1.14.19 Per la settima di Montegiorgio